Godetevi le stupende caratteristiche di questa bellissima casa presentata da Berry Plant. Non devi più cercare, non si può andare oltre questa bellissima casa. La casa vanta, soggiorno che è compatibile con uno stile di vita rilassato. Ampie camere da letto che vi farà sentire comodi e rilassati. Sappiate che questa casa si trova in un ottimo luogo, a poca distanza da scuole, negozi e mezzi pubblici. Questa proprietà soddisferà ogni vostra esigenza. Non perdete l'opportunità per vedere questa casa oggi. Contattate la gente.